Riaprirà finalmente il sottopasso, si stanno attrezzando per mettere dei cancelli, credo comandati a distanza, non ho capito perché è molto lungo il processo di aggiornamento di queste due chiusure del sottopasso, ma riaprà. A me è stata data come data il 6 di agosto, non so se ce la faranno. Sarà finalmente riaperto il sottopasso della stazione di Arezzo, ma non con le stesse modalità in vigore prima del lockdown. Alle due entrate verranno infatti sistemati cancelli che saranno aperti per tutto il giorno mentre resteranno chiusi nelle ore notturne. Attualmente infatti il tunnel che collega Piazza della Repubblica con Campo di Marte è sbarrato in corrispondenza dei giardinetti, una chiusura che era stata decisa a marzo da Questura e Prefettura che avevano chiesto a Ferrovie dello Stato di sbarrare il passaggio, questo per evitare che chi scendeva dal treno potesse eludere i controlli. Una sola entrata avrebbe infatti garantito una maggior sicurezza, ma una volta terminato il lockdown il sottopasso era rimasto chiuso. I pendolari così in più occasioni avevano chiesto risposte sulle tempistiche della riapertura. Su Facebook era nato anche un gruppo chiusura sottopasso stazione Arezzo, amministrato da Andrea Petrucci, un infermiere di Camucia pendolare che prima aveva scritto a Questura e Prefettura di Arezzo RFI, poi aveva chiesto un incontro al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ed infine assieme anche a tanti altri pendolari che hanno dovuto modificare in questi mesi e non di poco il loro percorso pedonale per attraversare questa parte della città, aveva iniziato una raccolta firme. Adesso le risposte sono finalmente arrivate il prossimo 6 agosto, salvo ulteriori slittamenti il tunnel tornerà fruibile.